Gurudeva, quando dici di dare l'amore, a volte è molto difficile capire, praticamente, quando dici di dare l'amore a qualcuno, praticamente, come? Ho detto, è molto difficile per me comprendere amore, quindi dare amore a un altro individuo, ma praticamente, come lo devo fare? Perché a parlare, sì, dopo, 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 va bene, però praticamente come lo faccio? Ok, praticamente, come posso dimostrare a qualcuno che lo amo? Sì, bellissima cosa. Ci sono due sentimenti a Vrindavana. Inizio da lì. Un sentimento è quello di Chandravali. Io sono tua. Io sono tua. Lei dice a Krishna, io sono tua. Tu ti devi prendere cura di me. E questo è un tipo di sentimento. Mentre il sentimento di Radhika è questo. Tu sei mio. Se fai o non fai, io ti amerò comunque. Ma se fai o non fai, sei tante mogli, a me non interessa. Ma cosa posso fare? Non mi prenderò. E cosa posso farci se tu sei mio? Io ti amare, ti amare, ti amare, farò tutto per te. Io lo so, ti amare, ti amare, farò tutto per te. Io so, io sto dando la mia pelle. Io so, io sto dando la mia pelle. Siva, Brahma, Narada, non ti daranno. Perché? Perché non vogliono andare in Hell. Perché? Una gopi dice, io posso dare la polvere dei miei piedi. Cosa che non fanno Shiva, Narada e Brahma, perché loro non vogliono andare all'inferno, perché non lo fanno. Ma io so che se darò la mia polvere comunque io finirò all'inferno. E io voglio andare all'inferno. Perché? Perché ti voglio vedere felice. Questo è il Dicono che sono devolti di più. Non sono tolleranti. Io do un po' più di queste questioni. Quando dici di fare, cosa significa fare? Amore in azione. Amore in azione. Amore in azione. Quindi se io prendo un glass di acqua per qualcuno o se io faccio qualcosa per qualcuno praticamente, manualmente, è un amore o no? Sì, è un servizio. L'azione è un servizio. Ma a volte molti complain, e dicono, no! Complain è un materiale. Stavo dicendo, quindi dare un bicchier d'acqua, prendersi pure è amore. E' amore. E' amore. E' amore. E' amore. E' amore. L'azione in amore è devozione. cosa è devozione? Vedi un bambino piccolo e la madre? La madre farà tutto quello che può per il bambino. E' amore. E' amore. La madre sa che un giorno il bambino non lo riconoscerà tutto questo. Dopo 18 anni. dopo 18 anni. E' amore. E' amore. E' amore. E' amore. E' amore. attraverso i sensi. Attraverso la mente. E' amore. Quindi non riusciamo a vedere. Dobbiamo imparare a vedere attraverso l'anima e il cuore. E' amore. E' amore. E' amore. E' amore. E' amore. Questo è spirituale. Tutto il resto è materiale. Quando i sensi guardano i sensi, allora quello è materiale. Potrebbe essere sesso ma non amore. Non. C'è una linea molto buona. Se qualcosa è per la mia felicità, si dice calma. Si dice calma. Calma. E' qualcosa per la felicità, per il Signore Krishna. E' amore. Se qualcosa invece per la felicità di Krishna, allora è prema. Quando vedi l'anima e la superanima all'interno di questo, allora è prema. Si dice calma. Atena sukkvaansa dherè kamna. Krissi sukkvaansa dherè premna. Non lo vediamo perché la nostra copertura è fortissima. Se non cantiamo la nostra coscienza spirituale non si risveglia. Daita dice molto bello che il bhajan è un abhidea. Se volete essere libero da questa coscienza materiale, solo il bhajan è un abhidea. Sambandha arriva attraverso il canto. Abhidea arriva attraverso il canto. E questo è il mio proyogeno. E questo è il mio proyogeno. E questo è il mio proyogeno. Quindi Instagram è l'obiettivo. Scusate. Grazie. La ultima domanda. Potete esprimere in alcuni parole la famiglia dharma? Qual è il significato della famiglia dharma? Quale deve essere l'uomo in dharma? E cosa deve essere l'uomo nella famiglia dharma? Sta chiedendo qual è il dharma della famiglia. Quindi qual è il dharma? Il ruolo che deve essere per il maschio verso la femmina. Per il dharma io posso dire, per quanto riguarda le famiglie, shhhhhh. Karuna Rame, potete dire, che è il mio proyogeno? Si potete dire, che è il mio proyogeno? Si potete dire. Si potete esprimare, e si potete anche il haripari. Si. Dite quello che vuole. In realtà, solo posso condividere la mia esperienza personale. Non lo so, ma... Darmistarma. Non lo so. Ah, ok. Posso solo condividere la mia esperienza di vita. Qualche volta, con mio marito, abbiamo... In inglese, in spagnolo... In spagnolo... In spagnolo... In spagnolo, sono molto attrazione. In spagnolo mi sentivo. In spagnolo, quando siamo in spagnolo, siamo uno e uno e poi divino e divino. Non divino. Non divino. quando siamo in armonia abbiamo il potere di 11 persone a volte qualche volta quando mi sento in armonia con mio marito abbiamo la forza di 10 persone 11 persone 1 e 1 che diventano 11 non 2, 11 e invece ci sono altri momenti in cui abbiamo difficoltà quando cominciamo a criticarci l'uno con l'altro e questo è un punto molto pericoloso è pericoloso perché può accadere che si possa perdere che uno dei due perde il rispetto per l'altro e se questo succede accade non soltanto perdi il rispetto ma perdi anche l'amore quindi per me è un aiuto pratico in questa situazione questo accade quando lo vedo in una relazione di marito quindi quando lo identifico con il ruolo di marito e quindi nella relazione con il marito ho delle richieste ho delle richieste se io do amore ho bisogno di qualcosa in cambio ma quando questo accade cerco di esserne cosciente perché penso che nessuno è felice in una situazione di conflitto quindi il segnale quindi il segnale di quando la mia coscienza non è nel posto giusto è quando io mi sento infelice quindi mi fermo e smetto di vederlo come mio marito e lo vedo come mio confratello e vedo che lui è un servitore di Radamohan e quindi mi sorge spontanea una domanda come faccio a criticarlo se è un servitore di Radamohan e questo mi aiuta a cercare di capire che io sono un'anima e che anche lui è un'anima e in quel momento nella relazione quando lo vedo come il mio confratello il centro è Radamohan e non io in questo corpo materiale questa è l'unica cosa è l'unica cosa è l'unica cosa quali sono i suoi sentimenti? quali sono i suoi sentimenti? invece in realtà devo dire che noi cerchiamo di comprare questo sentimento no? e quindi lui sta cercando di dire cercano di condividere questi sentimenti quando ci se arrivano questi conflitti questi attriti cerchiamo di condividere e di parlare e quindi poi cerchiamo di essere coscienti e arriviamo al punto che Karuna Mai ha spiegato adesso e quindi tutti questi problemi si risolvono perché siamo focalizzati su un altro punto di vista la vediamo sotto un altro aspetto e qualche volta c'è bisogno di tempo prima di arrivare a quel punto non è che si parla due parole e non è che dici soltanto due parole e poi arrivi a quel punto è sempre una questione di ricordarsi e questo è tutto quello che voglio dire perché perché questo viene perché sono invagini perché sono connessi perché sono connessi per risolvere i problemi 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 io non posso dirvi quello che loro viene detto perché quella è la loro realizzazione personale non mi avrebbe convinto ma siccome è una loro realizzazione personale è convincente l'ha convinto anche lui quindi se l'avessi detto io non mi avrebbe convinto ma siccome è una loro realizzazione personale è convincente l'ha convinto anche lui sono molto giovani sono molto giovani nella vita spirituale sono molto giovani sono molto giovani ma hanno avuto questa realizzazione e sono molto orgoglioso di entrambi e sono molto orgoglioso di entrambi io vorrei sapere qual'è la differenza tra un sentimento coniugale e un sentimento di amante e un sentimento coniugale chi sa sapere qual'è la differenza tra un sentimento coniugale e un sentimento di amante e un sentimento di amante e un sentimento e un sentimento vedi che conoscire in Goloka In Goloka, ci sono coppie sposate. Radha e Krishna sono due coppie sposate. Quindi, nella coppie sposate, un giorno Radha Rani era seduta nel giardino e a quel momento arriva il fratello e lei era in meditazione su Krishna. Quindi lei dice Radhika, Radhika. Ma Radhika è completamente assurta nel pensare a Krishna. E poi lei dice, non mi stai ascoltando. E quindi incomincia a maledirla e a dirgli, allora avrai cento anni di separazione da questo. E Radhika apre gli occhi immediatamente e dice, cosa stai dicendo? E sono dieci minuti che ti scuoto, ti chiamo, ma tu non mi rispondi, non vieni fuori. Come posso vivere in separazione da Krishna? Un minuto non è possibile per me. E quindi comincia a correre piangendo, cercando di riaggiungere Krishna. E quindi incomincia davanti a Krishna a piangere che cosa è successo, visto che ha fatto mio fratello, mi ha maledetto e mi ha detto che dovrò stare cento anni separata da te. E ha detto che sarà molto difficile per noi incontrarci. Come è possibile? Perché mi ha detto questo? Krishna ha detto, questo è il mio criterio. Anche io voglio sentire la separazione da te, e voglio stare lontana da te per piangere per te. Quindi hanno deciso di... Quindi hanno deciso di.. E punti qui per sifiare questo, per creare questo... questo loro sentimento no scratch o no. Quindi hanno deciso di diventare questo tipo di sentimento, e sono venuti su questo mondo materiale per mostrarci, no? Sì, per mostrarlo a tutti. Quindi queste cose molto confidenziali si possono comprendere o sentire se si diventa sempre più vicini a Radhika. Perchè lei ha bisogno di aiuto per vedere Krishna. E in questo modo si possono ottenere la benvenzione di Radhika. Questo è Paraty. E c'è di più e di più. Stai a parte, piano piano. Quando vederai a Vrindavan, ti porterò più a fondo. Piano piano. Stiamo aumentando la nostra identità spirituale per muovere piano piano in Radha Dasya. Stiamo, stiamo cercando di aumentare la nostra spiritualità, identità spirituale, piano piano, per arrivare a Radha Dasya. You have to come and stay with me. I promise. Every doubt will be clear. You are Gauravani. You will say only words of the Gauranga. You, this is my wish for you. But you have to stay with me and do the service in the Gauranga. You are Gauranga. Not turist. No. Then I will not die. You are Gauranga. Like yourself, Brindavan is for bhajana and for service. Not for turist. Then it's better to stay here. There is no thing to do. If you got the Easter, then you stop your tourism. And if you have no Easter there, then you're tourist. If you have a Guru Nistha, Nam Nistha, then you need to find East Nistha. You have to fix one place. If you have a Guru Nistha, Nam Nistha, then you have to find East Nistha, then you need to find East Nistha. And when you have a East Nistha, and then you tour, then you have no East Nistha. If you have a East Nistha, then you have a East Nistha. East Nistha. So you'll memorize what I'm telling you. Is right or not? If you have a East Nistha, then you have a East Nistha. Yes. East Nistha. And if you find your East Nistha there, and you're focused on that, then no need to do it. You have to sit and do that. And you have to sit and do this. To increase your spiritual identity. The spiritual reality. I'm praying for you as a spiritual spirit. Good. For that part. Thank you. Good. Happy now. Thank you. Good. Mr. Good. Good. liberazione, liberazione non è raccomandata, certo? liberazione non è raccomandata la liberazione considerata ma nel momento in cui voi conoscerete voi stessi e se pratiche per arrivare a quello allora sarete liberati non c'è nessun bisogno di controllare perché andrete sempre più a fondo in voi stessi giusto sbagliato non è che vuoi liberare in servizio di Radha Rani o vuoi liberare in servizio di Krishna o Guru non è necessario non è che vi libererete del servizio a Guru, a Radha, a Krishna non è che vi libererete del servizio a Guru, a Radha, a Krishna non è che vi libererete del vostro copertura a materiale quindi vi congiungerete con voi stessi e potrete andare più a fondo quindi se lascerete la vostra concezione dei sensi e del corpo sarete liberati perché avrete realizzato voi stessi e avrete la realizzazione spirituale e avrete la realizzazione spirituale e quando vuoi essere religioso e quando vuoi essere religioso e quando vuoi essere religioso e allora c'è il controllo e allora c'è il controllo perché non sei libero perché non sei libero e quindi io posso tranquillamente e facilmente controllarmi parlando di peccato e questo e quest'altro parlando di peccato e questo e quest'altro devi fare questo, devi fare quest'altro e quando già conosci te stesso sei già liberato devi solo sviluppare questa pratica e allora voi decidete cosa vuoi fare Guru Nistha e senza quello Nam Nistha non potrà mai arrivare questo non può arrivare perché il Guru Nistha non è fissato e quando è arrivato quando è arrivato se volete cantare più e più allora il Guru Nistha avrete anche il sentimento di cantare di più e in quel modo potrete fissare anche la vostra staglia e quando questa staglia viene, la vostra staglia e se si vede anche la vostra staglia e quando potrete sviluppare la vostra staglia e quando potrete sviluppare la forma della vostra staglia no, la vostra forma allora anche quella della vostra staglia non è completamente ma neanche è molto semplice molto semplice Non è facile, non è complicato, non è complicato, molto facile. Noi la facciamo complicata, quando vogliamo capire attraverso una coscienza materiale, noi chiudiamo noi stessi. Giusto o no? La cosa del super soul, potete capire con la soul, non con i sensi, con il mente e il corpo, non è possibile, bisogna essere collegati con questo per capire, certo? L'anima suprema è comprensibile attraverso l'anima, non attraverso i sensi, il corpo. La lampada lassù potrà dare luce soltanto quando è connessa con la stazione centrale, l'energia centrale. La stazione centrale, l'energia centrale è la super anima e mentre l'anima è la lampadina. Capito? Il guru è il trasformatore. Il guru è il guru. 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 È il medio. È la via. Gesù anche ha detto. Sono la via. È da una ragione. È la filosofia veddica. No? In un modo. È nascosto, ma è la via. Il guru è collegato con la luce, ma è nascosto. L'energia è collegata con la luce, ma è nascosto. Il collegamento è nascosto. Il collega è collegato e poi si è nascosto. Il cable watch è finito quando è collegato con il palco, con il palco. È finito. Ora collegatevi a voi e mantenete questo tipo di connessione. Il lavoro del cavo è finito quando è collegato. Ah, quindi quando il lavoro del cavo è finito comunque mantenete questo tipo di connessione. Ma il lampadino è sempre ringraziato per sentire che perché del palco mi sono collegato. Il lampadino è sempre ringraziato che mi sono collegato con il palco perché del cable. E la lampadina è grata di essere sempre connessa all'energia attraverso i cavi. Sì. Right? No, è semplicissimo, ma non è complicato. Non è complicato. Se la volete mantenere, non complicata. Non alla fine nonhirzo. Invece la volete mantenere non complicata. Sì. Non sto danno se non sto diventando arrabbiata. Si. Non sto allora tornando ti dichiarano con nessun pianistero. Le sto dicendo. Lo sto anche devём essere assoluto. Grazie.